E' stato mio collega al Gran Consiglio Vaudese qualche anno fa, che chiedendomi da dove veniva questo mio nome Ada e spiegavo che addolorata che i miei genitori sono italiani, mi ha risposto con molta naivete, con molta gentilezza quasi, parli bene il francese per essere un'italiana. Così io sono rimasta un po' scioccata, poiché sono nata qua all'accento del Cotonou, parlo meno bene l'italiano del francese, quindi ho capito a questo punto che anche un passaporto oggi in Svizzera non basta a giustificare la propria presenza o la sua cittadinanza svizzera. Allora, sinceramente non è un libro sulla naturalizzazione in se stesso, è un libro di riflessioni, di domande su cosa significa essere svizzera. Viene dopo la campagna di votazione che abbiamo vinto sulla naturalizzazione della terza generazione agevolata e infatti l'applicazione della nuova legge che diventa più dura nell'accesso alla cittadinanza. Le mie sono delle riflessioni su cosa significa appunto essere svizzero, che sono domande di sempre nella storia e nel futuro, quindi per me è importante andare a continuare la discussione iniziata a febbraio su chi è che fa parte della famiglia o no e chi è che lo decide. Questa è una cosa molto importante anche. Io direi che il Parlamento ha dato la sua risposta con la nuova legge sulla cittadinanza poiché ha escluso dell'essere svizzero chi è a led social e chi non sa leggere e scrivere. Quindi la definizione del Parlamento è chiara. Lo svizzero è chi ha soldi e chi è ben formato. Secondo me è non solo direi un'umiliazione delle persone che magari sono qua da decine di anni ma che purtroppo non hanno le competenze nella lingua di origine, nel scrivere e nel leggere, non solo per loro ma anche chi è nato svizzero ma che non ha queste competenze. Ci sono quattrocentomila persone svizzere in questo paese che sono analfabete. Quindi cosa significa? Qual è il messaggio che diamo a queste persone o non formate o anche povere? Cioè che segnale diamo ai poveri in questo paese? Svizzeri o stranieri?